Si chiama Solarino, è il primo robot pulisci spiaggia ecocompatibile, totalmente elettrico, alimentato ad energia solare, con batterie al gel e radiocomandato. È silenzioso, si muove senza problemi sia sulla sabbia asciutta che bagnata, non ingombra e grazie a queste caratteristiche potrebbe mandare in pensione i fastidiosi metodi di manutenzione spiaggia fatti con mezzi a motore. A realizzarlo è stata la Dronix SRL di San Cassiano, piccolo comune salentino. L'azienda sviluppa progetti finalizzati a migliorare la vita quotidiana delle persone. Solarino è nato in realtà alcuni anni fa da alcuni giovani e brillanti ingegneri salentini, ma solo ora è entrato in produzione. Fu presentato alla Fiera Ecomondo di Rimini nel 2011 e fu accolto con entusiasmo, anche perché Solarino nasce dalla tesi di laurea dell'Università del Salento, da cui ha preso il via il progetto della Nitens SRL, società spin-off dell'Ateneo, sviluppatasi poi nell'esperienza della Dronix SRL. Ora, a produzione avviata, approderà il quindicesimo Salone Balnearia delle attrezzature balneari, outdoor design e benessere, che si svolgerà dal 23 al 27 febbraio a Marina di Massa, in Toscana.